Una spizzata e all'interno della rigore attaccare un'eventuale seconda palla, però molto bene la Sampo che fino a questo momento ha concesso poco a un Venezia che comunque ha alzato completamente i ritmi. E ha un pubblico che risponde, intanto Audero si è preso, ma qui c'è un cartellino rosso per proteste e quindi intanto il Venezia sicuramente in 10, diciamo che Henry che era già stato ammonito era quello un pochino più nervoso, si è preso un doppio giallo, mettiamo una serie di bip qua, diciamo che il momento lato Venezia è un momento delicato, prendersi un secondo giallo così per una protesta.